La leggenda del pangrattato. C'era una volta un fornaio che soffria di un maledetto prurito e per questo motivo si grattava in continuazione. Anche se non lo faceva mai quando cuoceva il pane, un giorno il fornaio incontrò un mago e subito gli chiese se era in grado di togliergli il servizio e di grattarsi. Il fornaio pagò il dovuto e il mago fece una magia ma quando tornò al forno si rese conto che si stava ancora grattando. Si mise al lavoro, infornò la farina con il lievito ma grande fu il suo stupore quando lui di uscire non il pane ma una porverina composta da piccolissime briciole. Il fornaio la chiamò pangrattato, una nuova scoperta in cucina per confezionare piatti prelibati.